Ho fatto l'esame di seconda elementare nel 1975, il socialismo era come l'universo in espansione, la maestra mi chiese di Massimiliano Robespierre, per i sposi che Giacobini avevano ragione e che per loro no, la rivoluzione francese era stata una cosa giusta, la maestra non ritene di fare altre domande, ma abbiamo anche molti ricordi di quel piccolo mondo antico, Fogazzaro, l'astronave da 300 punti di Space in Veders, Enrico Berling, adattivù, le vittorie libiche di Averbo Vandoregna, il nome per la rivoluzione cubana, i sandinisti al potere in Nicaragua, il catechista che votava Pannella, Gli amici dei campi passavano delle Malbor direttamente all'eroina, alla faccia delle droghe, c'erano lecce, i fumetti di Zora, la bambina morono e la Prince senza ritorno, il referendum sul divorzio e non capivamo perché, se vinceva il no al divorzio c'era e se vinceva il sì, non c'era, non c'era, a nozze a San Renzo colciato, una paglia o un dineto, viva Nare, la prima sera, la vicina di casa, un travestito di più notte come l'onda, che mia madre chiamava Vandoregna, lontro sommo e sfigo di Chiveto, e al milagrado c'erano, il doblerone, qualcuno sa perché, una scritta agli ultras della religiana, dopo un'idea americana, e poi la nostra meravigliosa, dopo la mastica, via Carlo Caccia, via Caccia, via Caccia, via Caccia, via Caccia via Caccia, 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 via E infine il mio quartiere, dove il partito comunista prendeva il 74%, e la democrazia cristiana il 6%. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti!